Per un po' di tempo vi beccherete i video così, per un semplice motivo, una problematica con la connessione team, aggiornamento firmware del modem andato a farsi benedire e quindi, cosa che non dipende da me ovviamente perché lo fanno da remoto e quindi ragazzi per un po' di tempo non avrò internet al pc disponibile quindi insomma non potevo utilizzare il mio solito setup, quindi quello da computer fisso ma per fortuna che negli anni ho sviluppato varie soluzioni di registrazione e quindi ora, appunto finché non riesco a risolvere insomma sto aspettando news della team, finché non risolvo vi beccate questa postazione molto 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 spartana e con editing nullo probabilmente perché comunque se no è un casino editare, poi ripostare sul cellulare e sta roba qui e va bene in questo video però voglio parlarvi di un fenomeno tra virgolette che negli ultimi giorni si è fatto largo tre calciatori, vale a dire questo inizio di uso molto smodato tra virgolette dei social o meglio un'ingerenza dei giocatori sui social molto più importante e vi sto parlando di tre casi, vale a dire Douglas Costa che una volta firmato per la Serie A australiana ha annunciato l'apertura del suo profilo OF e poi due giocatori come Cristiano Ronaldo e Jude Bellingham Cristiano Ronaldo circa due settimane fa ha aperto il suo canale YouTube che ha già raggiunto i 57.8 milioni di iscritti mentre Bellingham attenderà il lancio ufficiale il 12 settembre ma comunque ha già raccolto più di 200.000 iscritti e volevo appunto dire la mia in primis vorrei un attimino sapete che ho sempre distinto il concetto di YouTuber con Content Creator per me il Content Creator è un'altra cosa piuttosto che il YouTuber secondo la mia visione, per me il YouTuber è quello che si mette lì, vai col cellulare, registra, butta lì e butta un contenuto che magari magari neanche di grande qualità e quindi per me è quello uno YouTuber, vabbè, ha un'accezione un pochino più negativa il Content Creator è quello che si spacca i reni e crea contenuti quindi che non si limita a mettere lì un cellulare, carica e poi magari riprese da schifo, audio da schifo distingo queste cose sono completamente diverse un po' come dire che io compro il flauto oggi, domani divento un flautista o magari una settimana che faccio le note a schifo divento un flautista o magari una persona che per anni ha si esercita sullo strumento ha studiato armonia, ha studiato teoria è diventata flautista ecco, faccio questo distinguo in questo caso però mi sento di in parte di distinguere il discorso di categoria YouTuber con Cristiano Ronaldo e Bellingham perché fondamentalmente non sono YouTuber Bellingham e Ronaldo ma semplicemente c'è un discorso di che sono in gioco totalmente famosi che muovono aziende io ho visto il trailer del del canale di Bellingham e devo dire che è registrato un minuto e trenta e devo dire che è registrato come se fosse un film quindi non diciamo che è il canale di Jude Bellingham perché secondo me Jude Bellingham è soltanto il materiale ma non penso che lui abbia molta ingerenza semplicemente ha una squadra che gestisce la comunicazione che gestisce i social che prende le cose e poi le monta e le mette su YouTube per l'amor di Dio poi l'ho detto che mi pare dal 12 settembre usciranno addirittura 4 episodi a settimana di di situazioni di vita reale di Bellingham magari un pre partita un post partita dopo la vittoria di qua la vittoria di là ma secondo me dietro non c'è direttamente Jude Bellingham cioè nel senso non è ecco già il profilo di Cristiano Ronaldo mi sembra un po' più reale un po' più da come ho visto ha detto che comunque quello di Cristiano Ronaldo è aperto un po' più di settimane però a parte che c'è dei video anche di 30 secondi 40 secondi quindi anche lì vabbè rientra il discorso di youtuber basic cioè prendo il cellulare faccio il video lo metto lì e butto un contenuto così però insomma ho fatto mi pare un'intervista con Rio Ferdinand hanno parlato di un po' di argomenti mi sembra un po' più vissuto così da come è stato proposto quello di Cristiano Ronaldo sono in attesa di vedere un pochino quello di Bellingham se è un po' più vissuto quello di Bellingham o semplicemente sono video montati stile cinematografico e messi su YouTube ora adesso parliamo di loro e poi magari vado a parlare anche di di la scosta non lo so giustamente loro polarizzano la community sanno che sbarcando su un sito come YouTube comunque avranno un seguito devastante ma vanno presi per quelli che sono cioè nel senso non penso che Ronaldo né Bellingham si mettono lì a fare contenuti interessanti cioè nel senso contenuti preparati contenuti di informazione semplicemente sono come delle rock star sono come delle star a livello internazionale che danno il contentino al tifoso che tu vai lì ti guardi oddio che bello Bellingham ha fatto così dopo la finale contenuti che a me non piacciono cioè nel senso io non li guarderei mai sono contenuti secondo me per boh non lo so ragazzini spero che un trentenne non si mette lì a vedere oddio qua cosa ha detto Bellingham dopo la finale Ronaldo ha fatto anche il video su mi pare i suoi mille gol non lo so una roba del genere ripeto sono contenuti che a me onestamente non mi hanno mai attirato su YouTube non li ho mai cercati e lungi da me andare a vedere il un un canale di uno come ecco Bellingham o Ronaldo o come le super rockstar cioè non mi interessa non ho questo feticismo di sapere della vita del di Bellingham o di Ronaldo frega niente cioè nel senso io analizzo il lato calcistico e sicuramente c'è qualcuno a cui piacerà ma sicuro come loro infatti basta vedere in due settimane più o meno 57.8 milioni di iscritti Cristiano Ronaldo cioè quella roba che si fa un alto ingaggio in un anno di quello che si fa in un anno in Arabia ora facendo un pochino un iperbole però insomma è per loro fonte di guadagno e fonte di guadagno per le loro aziende perché sono aziende che giustamente sfruttano il portatore d'immagine per lucrarci è normale onestamente io non so anche se mi scriverò perché ripeto non ho interesse a non ho interesse a sviluppare questi contenuti a sentire questi contenuti onestamente mi piace un po' più il document preferisco il documentario di chi si informa tantissimo e magari mette una sua visione un un suo commento ecco previsco più quello per citarne cronache fraula o anche nova lezio che non non è un discorso di calcio ma lo ammino tantissimo un football mystery che a me comunque piace un un tantalman che mi piace il modo in cui il modo calmo in cui affronta le cose ci sono veramente tanti tanti o lo chiamavano calcio previsto quel tipo di montaggio di quel tipo di contenuto di gente di creatori contenuti normali che si fa il mazzo per fare un prodotto io onestamente non seguo gente che perché i soldi si mette lì si bende una troupe dai apriamo un canale youtube e io sono lo youtuber infatti per quanto a me non piaccia proprio youtuber allontano da queste persone proprio youtuber perché toglie importanza anche lo youtuber stesso perché lo youtuber stesso fa fatica a caricare a mettere la copertina a mettere le descrizioni loro non fanno niente ok per quanto riguarda da grass costa o li fans a partire dal presupposto che sicuramente non è che si metta a fare le foto secondo me le foto da grass costa infatti sono d'accordo con lui che io voglio essere un po' controcorrente per quanto io vada contro assolutamente non sia molto amante non condivida anche certe filosofie di pensiero che ci siano dietro le fans quando utilizzate in un certo modo quindi per le other content creators io penso che comunque al dia di tutto è un è l'utenza che fa il sito quindi io penso che apri su un sito only fans per fare contenuti a pagamento ma magari gestiti dallo stesso da grass costa faccio un esempio una vita in casa costa una giornata in casa da grass costa ti metti lì i filmi magari c'è l'editor che ti può montare il video però un contenuto di vita vissuta allora lì io posso essere d'accordo cioè mi può intrigare quel tipo di idea a pagamento a pagamento magari chi è feticista della vita privata dei calciatori cosa che io non sono ma al di là che OF sia una piattaforma per le adult content creators o gli adult content creators utilizzarla in un modo così perché sembra che anche OF si vorrebbe un po' spostare un po' sul trend di tiktok di youtube quindi rendere un po' meno xxx la piattaforma ecco che a quel punto va bene c'è nel senso da grass costa va a prendersi un profilo su only fans per dare ai feticisti della vita privata degli atleti o del lusso la vita vissuta di da grass costa che sono la moglie i figli una vacanza un piatto che mangia in brasile o in australia magari va in giro a prendersi una birra con i famosissimi ragni enormi che sono in australia con i canguri ecco lì posso essere più al limite estremo più d'accordo ma benissimo cioè ti fai quello ti fai un un contenuto così bello però ripeto magari forse vado a spanne ci sarà lui dietro ecco magari ecco non sarà lui che rispondere alla chat perché magari non so se lì ci sia una chat ma mi pare di sì che puoi comunicare direttamente con il creator magari no si farà un'agenzia è normale però ecco volevo dirvi semplicemente la mia su questo fenomeno delle ultime settimane che diciamo che i calciatori si stanno calando nel nel mare magnum di noi content creators di loro youtuber altri youtuber di noi content creators e vediamo un attimino come come si svolgerà il tutto io ripeto non sono molto fan seguirò un po' qui un po' lì ma giusto per vedere un pochino di contenuti che pubblicano perché magari poi giustamente la mia è un'idea adesso poi magari scoprirò che Bellingham farà contenuti super mega iper di classe sono primo a smentirmi idem Cristiano Ronaldo ad ora mi sento dire che sono semplicemente delle persone ricche famose che hanno un talento che sono impegnati per una vita calcistica che perché hanno i soldi hanno deciso con le loro aziende di aprire un canale youtube ma non per la Cristiano Ronaldo SPA o per la Jude Bellingham SPA bensì come canale youtube di Cristiano Ronaldo e Jude Bellingham permettetemi il dubbio di questa cosa fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi